Il primo, il primo, prendete il primo. Sì, sì, prendiamo la New. Ma abbiamo un contratto vicino? No, no. L'elicottero vicino? Sì, l'abbiamo. È a sinistra. Sto a prendere io. Scendiamo questo. Volete che lo so il mio? Mi stanno andando, non so. Vai, il tuo è il tuo, vai. O il tuo è il mio, vai. Sto a prendere la buona. No, ci sono andati, Andrea. Allora, l'ho preso. Fare, non so. Eh, ma è che non si può sempre più fare i contratti se partiamo con quello, furbi? Ah, sì? Eh, ma dai! Allora, può essere che si disattivano col contratto. Che è perché facciamo i contratti? Sai che può essere? Può essere. Vabbè, Andrea, non ci vediamo. Andiamo a lottare, andiamo a lottare. No, no, finché non lo facciamo. Ancora no. Vai, lottiamo, 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 lottiamo qua. Andiamo subito. Andrea, adesso non ci vediamo. Ma io sto in buono, l'ho lottato. Trollo un po', va. Eh, allora sì, siamo dei coglioni noi. Cioè, che cagata è? Non puoi fare i contratti e poi... Vabbè, sì, poi è oggi. Ma, Alessandro, l'avevo detto all'inizio che non ci vedevano. Oh, sparo! Oh, sono qua, sono qua. Oh, cazzo, ci vediamo, ci vediamo, ci vediamo. Cosa ho preso io? Sono fatto? Uno è qui? Continuo a salire io? Lo vedete ancora? Cosa è che sarebbero? Dove è che sarebbero? Uno è a ping verde, è blu nel tetto, qua. Il ping verde. A carello sta andando, a carello. Oh, cazzo. Mi pushano, raga. A me stanno pushando. Ragazzi, bisogna tirare la mano. Mi stanno pushando tutti. C'è un'altra cosa. E' un'altra cosa. Non devi guardarmi, ragazzi. Ok, ok, ok. C'è un'altra cosa. No. Eccolo là. Puoi c'è nel calo, nel calo, nel calo, nel calo, nel calo. Mi hanno salito sul tetto, io. Continuate a guidarmi, raga. Sono qua con te, sono qua sotto. Arriva il gente da tutta. E' qui, e' qui. Ma porco. Spazio. Ce l'è ancora. Porco Dio. Guarda, una mano, una mano. Mi scherchio, ho cambiato l'arma per sbaglio. Fatto, lo fatto, lo fatto, lo fatto. Aiutami. La mia arma a terra è caduta. No, no, è il colpo, se hai perso. Ah, ok, no. Non ho fatto giuro per farlo. Però, bisogna per cederli. Marco, ci sono altri, Marco. Sì, ok, facciamo audio, ragazzi. A lento. A terra. A terra, devi stare zitto, vacca madonna. Sì, ok, no, 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 no. Vitti, ho il team interno. Ma no, questi sono... Illimitati. Valeo. Bella, bella nuke. Bella nuke. Bella nuke. Pazzesco. Un cavato. Cioè, è pazzesco, che ciò che... Lo avete capito? Illimitati. Illimitati. Sono tutti i tre team in questa casa di merda. Tre team. grazie